Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Tecné fatto da appunto zona bianca di oggi. Si parla di coalizioni a questo punto e si vede che alla Camera e al Senato la coalizione di centrodestra raggiunge quasi il 50%. Il 49,5% alla Camera e il 49,6% al Senato. Mentre PD, Azione e altri di centrosinistra raggiungono il 32,8% alla Camera e il 32,9% al Senato. Il Movimento 5 Stelle ha tra il 9,5% e il 9,2% e gli altri partiti, Italia Viva, Paragone, hanno un 8,2% alla Camera e un 8,3% al Senato. Si vede così che anche se ci fosse il Movimento 5 Stelle che si unisce alla coalizione di centrosinistra, comunque sia ci sarebbe comunque un grosso vantaggio per il centrodestra. Grazie a tutti e arrivederci a presto.